Oltre 9 milioni di euro. A tanto ammonta il patrimonio mobiliare e immobiliare riconducibile all'ex tesoriere della Margherita Luigi Lusi, confiscato dalla Guardia di Finanza di Roma. Il provvedimento della Corte d'Appello conclude per l'aspetto patrimoniale la vicenda giudiziaria in cui è stato coinvolto l'ex parlamentare, condannato per appropriazione in debita a dicembre 2017. Le indagini coordinate dalla Procura di Roma avevano accertato come Lusi con la connivenza della moglie e di alcuni professionisti avesse distratto fondi per svariati milioni di euro destinati al partito con un complesso sistema di false fatturazioni realizzato con alcune società a lui riconducibili. Nel 2012 furono arrestati Lusi, la moglie e due commercialisti e sequestrati i beni ora confiscati per un valore complessivo di circa 9 milioni e due. Quote sociali e intero patrimonio aziendale di una società di capitali, una villa genzano alle porte di Roma del valore di oltre 4 milioni di euro, sei appartamenti, un box e un terreno situati a Roma in provincia dell'Aquila per un valore di circa 3 milioni e 7 e poi conti correnti, pollizie assicurative e fonde di investimento per circa 1 milione e 3.